Oggi prepariamo insieme una torta elegante e raffinata, la torta moderna fragole e mascarpone. Ecco gli ingredienti che ci serviranno e li troverete anche nel box sotto al video. Iniziamo la preparazione dagli inserti. Per prima cosa il gelé alla fragola, quindi in una ciotola mettiamo la gelatina a reidratare. Nel frattempo tagliamo le fragole a cubetti, le mettiamo in una padellina, aggiungiamo lo zucchero e il succo di limone e portiamo sul fuoco a far cuocere per una decina di minuti. A questo punto trasferiamo le fragole cotte all'interno di un bicchiere o di una caraffa e con il frullatore d'immersione andiamo a frullarle, ottenendo così una bella purea. Riversiamo la purea all'interno della pentolino e la facciamo cuocere per un quarto d'ora. Quindi aggiungiamo la gelatina ben strizzata e mescoliamo bene per farla sciogliere. Versiamo la gelé alla fragola all'interno del nostro stampo in silicone di diametro 15 cm e la mettiamo, lasciamo raffreddare un po' a temperatura ambiente e poi la mettiamo in freezer. Nel frattempo prepariamo la mousse alla fragola. Mettiamo la gelatina a reidratare in una ciotola di acqua fredda, frulliamo le fragole e le mettiamo in un pentolino o padellino. Aggiungiamo anche lo zucchero e portiamo sul fuoco a far scaldare. Appena sfiora il bollore spegniamo, la versiamo in una ciotola e aggiungiamo la gelatina ben strizzata. Mettiamo da parte a stemperare e nel frattempo semimontiamo la panna. Mi raccomando utilizzate una panna non zuccherata. Incorporiamo la panna semimontata alla purea di fragole e mescoliamo delicatamente. Ed ecco che la nostra mousse è pronta. Quindi riprendiamo dal freezer lo stampo dove avevamo messo la gelé e versiamo sopra la mousse. Le vediamo bene e riportiamo in freezer. Dopo qualche ora i due inserti si saranno perfettamente congelati, quindi possiamo procedere alle altre preparazioni. Innanzitutto prepariamo il biscuit. Quindi in una ciotola mettiamo gli albumi e iniziamo a montarli, aggiungendo un poca alla volta lo zucchero semolato. Montiamo bene fino a ottenere una neve bella spumosa. Quindi aggiungiamo i tuorli e li mescoliamo dal basso verso l'alto con una spatola. Aggiungiamo anche la farina setacciata. Io ho utilizzato una farina senza glutine. E per tutte le altre preparazioni ho utilizzato dei prodotti senza lattosio. Aggiungiamo anche l'olio di semi di girasole e mescoliamo per bene. Rivestiamo con la carta da forno una teglia di circa 22 cm di diametro. Versiamo, livelliamo bene e cuociamo in forno caldo a 190 gradi per circa 10 minuti. Nel frattempo prepariamo la bavarese al mascarpone. Quindi mettiamo la gelatina a riedratare. E poi prepariamo la crema inglese. Mettiamo l'uovo e il tuorlo insieme allo zucchero in una ciotola. Aggiungiamo anche l'amido di mais e mescoliamo. Quindi aggiungiamo il latte. Versiamo io un pentolino e portiamo sul fuoco. Dovrà raggiungere una temperatura di circa 82-83 gradi. Quindi togliamo dal fuoco. E andiamo a versare la crema inglese direttamente sopra il mascarpone. Mescoliamo per bene per far sciogliere il mascarpone e far diventare tutto una bella crema liscia ed omogenea. Mettiamo un attimino da parte e andiamo a semimontare la panna. Anche in questo caso vi consiglio una panna non succherata. Incorporiamo la panna semimontata alla crema di mascarpone e mescoliamo delicatamente. A questo punto la bavarese al mascarpone è pronta e abbiamo pronte tutte le nostre preparazioni. Quindi possiamo andare ad assemblare la torta. Prendiamo uno stampo da circa 19 cm, in silicone possibilmente. Versiamo circa metà della crema al mascarpone. Poi estraiamo dal freezer e dallo stampo il nostro inserto e lo andiamo a mettere capovolto, quindi con il gelè verso di noi. Versiamo l'altra parte di bavarese al mascarpone e poi il biscuit che avremo ritagliato per la misura che ci serve, quindi circa 18 cm. A questo punto è pronta, bisogna metterla in freezer e a riposare per tutta la notte. Ora prepariamo la glassa neutra. Mettiamo la gelatina a riedratare e in un pentolino l'acqua e lo zucchero. Portiamo sul fuoco fino a una temperatura di circa 101-102 gradi. Togliamo dal fuoco, aggiungiamo la gelatina ben strizzata, mescoliamo per farla sciogliere. Versiamo il tutto in una caraffa. E se vogliamo andiamo ad aggiungere un po' di colorante. Io ho utilizzato qualche goccia di colorante in gel rosso. Mescoliamo bene, copriamo con pellicola e lo lasciamo riposare una notte. Il giorno dopo riportiamo la glassa a una temperatura di circa 35 gradi. Sformiamo la torta perfettamente congelata e andiamo a glassarla. Completiamo con un giro di fragole tagliate a metà e decoriamo con spicchi di fragole e qualche fiorellino edule. La torta è pronta, la lasciamo almeno 6-8 ore in frigo per ottenere la giusta consistenza. Come vedete è una torta molto bella e elegante e anche se ha diverse preparazioni non è così difficile da fare. Se ti è piaciuta questa video ricetta lascia un mi piace.